Il secondo binario, per marcarlo a portato, Basti, Baccellona, Pilastro. Le venti, 7.30, la provincia da 3.30 in cima e arrivo sul secondo binario. Le venti, 7.30, la provincia da 3.30 in cima e arrivo sul secondo binario. La Roma 7, vedeone 11.41, è in arrivo al binario 2. Attenzione all'ostanarsi dalla linea gialla, e marcarlo a portato, Basti, 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 Baccellona, Milano. Scusate al diere di alzare di, 7.30, la provincia da 4.30, la provincia da 3.30, la provincia da 3.30, la provincia da 5.30 in cima e arrivo al binario. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!